Ma dove siamo? Della serie vivi la tua vita e segui la corrente. Io mi chiamo Shaki Pio. Io e te siamo fratelli, non è vero? Cerchiamo insieme la nostra mamma. Fai una cosa, vacci da solo. Sei proprio un pollo! Veramente sarei un uovo. Mi sa che a breve sarò mangiato davvero. Lasciami stare. Niente salti, si soffoca qui. Sono certo di aver visto un uovo che si muoveva. Devo, anche a parte, ad ogni costa. Qui ci mangiano, se qualcuno ci trova. Via! Quando per Gudetama arriverà la sua data di scadenza, diventerà come Gudetama! Stai iniziando a marcire! Ah, impossibile! Prestato dalla gente da una data di scadenza? Non sforzarti troppo, però... Come andrà a finire questo viaggio senza precedenti? Gudetama! Gudetama! Un nuovo viaggio! Beh, penso che potrebbe funzionare! Non è stata la focalizzazione. Mi NS focusedvicora, io non rai... E quello di questo che può essere... Non è stata la scadenza che non rai... Non è stata la scadenza che non rai... Grazie a tutti